Volevamo augurarvi a nome di tutta la Wilkom buone feste. Siamo prossimi a giorni importanti e ci tenevamo con questo video messaggio ad augurare a tutti quanti di passare un sereno Natale e un buon fine anno e soprattutto un inizio di anno con la speranza di riuscire a fare ancora meglio rispetto ai nostri impegni e a quelli che sono i nostri obiettivi. A tutti voi da parte della Wilkom auguri sinceri. Buone feste!